nome ciao 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 saluto e metto più le mani i al sam se questo vuoi rio ci fa giro giù 1 2 3 1 ma ci sentiamo il prossimo movimento e poi vai 2 3 4 3 5 1 2 3 ok devo sapere come c'è l'ansia qui 1 L 2 circolare questo 1 2 qui è l'articolo sui abbandono 1 2 esco saluto questo 1 2 giro il piede a giro giro destra 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 bumb L pan giro 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 tum tum ok poi qui fa come una virgola col piede e altro così a basso non importa come viene questo chiudo davanti questo va dietro pam uno due tre quattro cinque e sei uno due saluto e riempio c'è tutto questo